Un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio Pelè e il Papa Emerito Benedetto XVI. È cominciata così in Parlamento la cerimonia per l'insediamento di Luis Ignacio da Lula, che da ieri sera è il nuovo presidente del Brasile, a vent'anni esatti dalla sua prima volta. Ad assistere c'erano le delegazioni di oltre 50 paesi e l'intero corpo diplomatico accreditato. Non c'era invece, con uno strappo clamoroso del protocollo, il predecessore, ovvero l'ex presidente Jair Bolsonaro, che non ha mai voluto riconoscere la sconfitta alle elezioni di ottobre. Abito e cravata blu, Lula nel suo discorso ha celebrato la vittoria della democrazia e ha promesso di risollevare il Brasile, di ridurre le disuguaglianze sociali, di ridurre la diffusione delle armi da fuoco, ma soprattutto di combattere la deforestazione. Il Brasile ha la possibilità di diventare una grande potenza ambientale, ha detto Lula. Da oggi dunque si è chiusa l'era del controverso presidente Bolsonaro e torna l'uomo che per anni è stato l'icona della sinistra latinoamericana. Eppure, solo tre anni fa, Lula era in carcere per scontare due condanne a 12 anni complessivi per corruzione, sentenze che poi però erano state annullate dalla Corte Suprema per vizi di forma e perché i processi erano pilotati con scopi politici. A salutare il nuovo presidente sulla spianata dei ministeri di Brasilia c'erano decine di migliaia di persone, ma il paese è profondamente diviso con molti dei sostenitori di Bolsonaro che ieri per contestare l'insediamento di Lula si sono minacciosamente riuniti davanti ad alcune caserme.